Musica In questa casa è considerata un'ottima pensione dai suoi ospiti Ospiti? Sì Lo sai quanti ospiti hai avuto da quando io sono qua? Quanti? Uno Chi? Io! Io sono il tuo ospite! Aspetta quei ospiti Cosa? Non lo sapevi, vero? Ma di che stai parlando? Non ci credo È vero Ma lo dici apposta? Chi sono? Insomma, vedrai quando verranno! Cosa indossavi l'altra settimana? Guarda Dove hai messo tutti i tuoi vestiti? Perché hai lasciato l'organizzazione? Quale organizzazione? Guarda Ah! 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 Ah!